buongiorno sono mondani arnaldo faccio l'amministratore da parecchio tempo capita che ci siano dei condomini morosi nei condomini oggi come oggi la morosità ma non solo nei miei condomini purtroppo in tutti i condomini c'è parecchia morosità e io ho preso ultimamente un condominio dove c'erano addirittura condomini che avevano ciascuno 5 6 mila euro da pagare e un po minacciando un po con decreti ingiuntivi un po con altre con altri sistemi minacciando non andando però minacciando col decreto ingiuntivo con le vie legali eccetera sono riuscito a mettere a posto a sistemare il condominio adesso c'ho appena un condomino che non faccio il nome perché non si può fare i nomi ho un condomino che c'è ancora qualche cosina da pagare indietro però sono riuscito a mettere a posto il condominio bene e sono sono soddisfatto sono soddisfatto di questo bene grazie allora per la sua testimonianza prego